Meteograd, le previsioni meteo sempre con te. Segui ora il canale e lascia un mi piace, grazie. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per venerdì 26 luglio 2024. Un'ondulazione del getto sul comparto nord-occidentale europeo, in scorrimento sul bordo orientale dell'Alta delle Azzorre, contribuirà alla spinta verso nord dell'anticiclone subtropicale di matrice nord-africana che inizierà ad interessare il Mediterraneo ed il comparto centro-meridionale europeo. Di conseguenza, su dette zone, le temperature inizieranno a salire oltre la media, segnando l'inizio di una nuova ondata di calore, tipica ogni anno in questo periodo dei solleoni. Previsioni meteo in area italiana per venerdì 26 luglio 2024. Nord, bel tempo con cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi, anche se nel pomeriggio assisteremo alla formazione di nubi cumuliformi sui rilievi alpini che saranno accompagnate da qualche temporale. Localmente la fenomenologia potrebbe sconfinare in alcune aree pedemontane. Centro, poche nubi con sviluppo di qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne ed a ridosso dei rilievi. Tale addensamenti non è escluso, possano dar luogo a qualche debole ed isolato piovasco sulla cresta appenninica. Tornerà a fare un po' caldo nelle conche interne. Sud e isole, stabile e soleggiato su tutte le zone con al più i consueti addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi. Caldo in aumento nelle valli interne. Temperature massime in generale aumento con punte fino a 37 gradi Celsius nelle conche interne del centro-nord. Minime anch'esse in aumento. Termiche ad 850 etto pascal nuovamente sopra la media ovunque, con ingresso di una venti diffusa. Ventilazione debole a regime di brezza con residui rinforzi da nord in area basso-adriatica e ionica. Mari da poco mossi a localmente mossi sui bacini meridionali, con moto ondoso in attenuazione serale. Tendenza meteo in area italo-mediterranea fino a domenica 28 luglio 2024. A fondi meridiani del getto nord-atlantico sul comparto occidentale europeo daranno ulteriore spinta verso nord alla controrisposta calda e stabilizzante dell'anticiclone subtropicale, che oramai avrà investito tutto il Mediterraneo ed il comparto sud-orientale europeo. La nostra penisola si troverà al centro di tale anticiclone con tempo soleggiato e temperature in netto aumento. Attese locali punte massime fino a 39 gradi Celsius, con caldo ed afa su livelli disagevoli. Qualche temporale sull'arco alpino, specie sabato, a causa di infiltrazioni umide in quota. Grazie a tutti della vostra attenzione. Iscriviti ed attiva la campanella per non perderti gli ultimi aggiornamenti meteo.